Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Ponte crolla sulla 14, Trancone e Loreto, marito e moglie muoiono, di Ascoli Piceno, feriti tre operai che lavoravano in un'impalcatura, autostrada chiusa Cade il tetto della fabbrica, muove un operaio della Profil Glass, furto in appartamento, arrestata la banda che colpiva nel Peserese Condominio senza luce a San Lazo, scoperto l'Arcano, stipulavano un contratto truffa per ottenere le provvigioni con il cambio del gestore Buonasera, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Apriamo il telegiornale con la tragedia che si è consumata in A14 Questo pomeriggio crolla un ponte vicino Loreto, il bilancio tragico perché è di due morti e tre feriti L'autostrada è ancora chiusa, vediamo tutti i particolari nel servizio Due morti e tre feriti e questo il tragico bilancio della tragedia che si è consumata in A14 nelle prime ore del pomeriggio di oggi Il ponte 167 è crollato sull'autostrada al chilometro 235 all'altezza di Camerano tra Loreto ed Ancona Sud Le due vittime sono una coppia di sessantenni, Diascoli Piceno, Emidio Diomede di 60 anni e la moglie Antonella Viviani di 54 Di ritorno da una visita medica dall'ospedale regionale di Torrette e che si trovavano a bordo della loro Nissan che passava sotto il ponte I feriti sono tre operai romeni che erano impegnati nell'ampliamento delle tre corsie dell'autostrada Due di loro, 56 e 46 anni, sono stati trasportati nell'ambulanza al Torrette di Ancona e le loro condizioni non sono gravi Sono precipitate da un'altezza di 6-7 metri Il 56enne ha riportato la frattura del polso mentre per il più giovane sembra nessuna frattura apparente Il terzo operaio di 46 anni ha riportato lesioni lievi ed ora si trova in osservazione all'ospedale di Osimo La società Autostrade per l'Italia che gestisce il tratto di A14 ha spiegato in una nota che il crollo è stato causato dal cedimento di una struttura provvisoria posizionata a sostegno del cavalcavia chiuso al traffico E come vi dicevo in questo momento l'autostrada è ancora chiusa Abbiamo le immagini che ci giungono in diretta Prego la regia di mandarle in onda Ecco le vedete in questo momento si sta lavorando ancora con i Caterpillar per rimuovere il ponte Sono all'azione tantissime squadre di vigili del fuoco, protezione civile e gli operai dell'autostrada per l'Italia Ritorniamo in studio perché continueremo poi a collegarci con l'autostrada nel corso del telegiornale Vediamo se naturalmente l'evoluzione è in apertura oppure se ancora l'autostrada rimane chiusa Un altro incidente mortale sul lavoro quest'oggi pomeriggio a Fano Un operario di 41 anni fanese della dita Profil Glass di Bellocchi di Fano Mentre si trovava sul tetto di una delle strutture dell'azienda è precipitato da un'altezza di 12 metri Morendo sul colpo, il tetto sul quale stava lavorando per cause ancora in fase di accertamento Ha ceduto sotto i suoi piedi facendolo precipitare di un container Sul posto i funzionari dell'Asure, gli uomini del commissariato di Fano Coordinati al dirigente Stefano Seretti per valutare le cause dell'incidente Rimaniamo sulla pagina della cronaca perché un incidente stradale sul ponte dell'Arzilla Questa mattina intorno alle 8.40 che ha visto coinvolte ben quattro autovetture La cui probabile causa è un tamponamento a catena Ha causato per circa un'ora il blocco del traffico sulla statale 16 Sia in entrata che in uscita Con code che sono arrivate nella zona sud fino alla stazione dei treni E in direzione nord ben oltre la Gimarra Vigi urbani in azione che però non hanno potuto far altro che regolamentare il traffico In quanto gli automobilisti coinvolti nell'incidente hanno provveduto a fare la constatazione amichevole di incidente Invece un altro incidente nel primo pomeriggio di oggi Si è verificato in via Fraghetto, zona ex zuccherificio Tra un furgone della ditta Bartolini e un Opel guidata da una 58enne fanese Che ha centrato la fiancata del camioncino Riportando alcune contusioni medicate al pronto soccorso di Fano Il traffico ha subito anche in questo caso forti rallentamenti La polizia locale intervenuta sul posto è stata anche qui impegnata per regolare la viabilità Bene, una delle pieghe più sgradevoli dei furti Sono quelli che si verificano negli appartamenti Ebbene, un colpo è stato assegnato da parte delle forze dell'ordine su questo fronte Perché è stata sgominata una banda di albanesi Che operava nelle province di Pesaro, di Rimini, di Forlì e di Cesena Vediamo i particolari I carabinieri di Pesaro hanno catturato ed arrestato una banda di albanesi Autori di diversi furti in appartamenti E recuperata refurtiva per un valore di 20.000 euro La banda, la cui attività si estendeva nelle province di Ravenna, di Rimini, Forlì, Cesena e Pesaro Era specializzata in furti in appartamenti al primo piano e si componeva di diversi elementi Alcuni dei quali risiedevano sul territorio nazionale Mentre altri facevano la spola direttamente con l'Albania Dove poi smerciavano con ogni probabilità la refurtiva A mettere sulle tracce del gruppo e a far partire le indagini Un arresto, operato sempre dai carabinieri, nella stazione ferroviaia di Pesaro il 25 gennaio Di un cittadino albanese ritenuto responsabile di un furto in un'abitazione Eseguito la sera stessa Le connivenze ed i contatti dell'arrestato, unitamente alle indagini degli investigatori Hanno consentito ai militari di individuare due elementi della banda Un uomo, Lika Edmon, 23 anni senza fissa dimora E Bunda Blediana, 29 anni, domiciliata a Ravenna Entrambi incensurati, implicati in un furto in appartamento Effettuato il 5 marzo, sempre a Pesaro Dove oltre ad orologi ed oggetti d'oro La banda ha portato via una Renault Clio Con il provvedimento di fermo in tasca, emesso dal GIP Sante Bascucci della procura di Pesaro I carabinieri si sono divisi e messi sulle tracce dei due La donna arrestata Ravenna, nei pressi della sua abitazione E Lika Edmon, fermato al porto di Vare, dove stava per imbarcarsi alla volta dell'Albania In compagnia di un terzo componente della banda Lika Florian, trovato in possesso di un orologio rubato, sempre nel furto del 5 marzo Ora per i due arrestati di Bari c'è stata la convalida dell'arresto per ricettazione Furto aggravato e portati nel carcere di Bari Mentre per la donna si sono aperte le porte del carcere di Forlì Con l'accusa, anch'essa, di furto aggravato Chi ha subito un furto proprio in queste località, in queste province È pregato di contattare i carabinieri di Pesaro, il nucleo operativo radiomobile Per visionare gli oggetti norosequestrati E per fornire anche indicazioni su possibili indizi che ci possono essere utili Sugli autori adesso arrestati E quindi se hanno visto in prossimità della loro abitazione questi tre individui Anche una donna E quindi qualcuno può aver visto una donna che aveva il compito di accompagnare I componenti del gruppo formato da uomini Nei luoghi che venivano poi presi di mira Per esempio per Pesaro erano le frazioni di Villa Fastigi negli ultimi periodi Ed altre limitrofe Bene, ieri vi abbiamo mostrato in un servizio il caso di quel condominio nel quartiere San Lazzaro Abitato da 98 famiglie Che improvvisamente da lunedì era rimasto senza luce condominiale Né televisori né anche ascensore Ebbene, ci sono delle novità positive in questo caso per tutti loro Sentiamo Allora possiamo dire che tutto bene quel che finisce bene Siete perlomeno riusciti a rievere la corrente Sì, ieri alle 18.30 per fortuna la corrente elettrica è tornata nelle 5 scale del nostro mega condominio E quindi gli ascensori e la luce delle scale e le antenne delle televisioni hanno ripreso a funzionare Ecco, siete risaliti a questa truffa perché è una truffa vera e propria Sì, l'amministratore in questi due o tre giorni ha lavorato sodo per riuscire a venire fuori dal nostro amministratore Da questo problema E praticamente siamo riusciti a risolvere il bando della matassa Anche se ovviamente la luce è tornata Ma prima di poter riavere i danni subiti O di ritornare al vecchio gestore Bisognerà ancora penare un po' e sorvegliare parecchio Ecco, adesso l'importante è che tutto si risolva Però c'è un'indagine dei carabinieri perché è veramente un'azione truffaldina Sì, l'amministratore Giunti, cioè l'amministratore del nostro condominio Che ricordo è il Metauro 98 Praticamente ha messo in mano tutto il carabinieri Anche se loro per primi hanno detto Guardate, noi sappiamo già che nella provincia di Pesorubino Ce ne sono almeno centinaia di casi come i vostri che hanno avuto le stesse truffe E quindi ovviamente noi indaghiamo Raccogliamo come la terra è possibile E poi speriamo che qualche personaggio venga fuori Ma ormai queste truffe come cittadini le conosciamo bene Perché tutte le trasmissioni che vediamo in tv ne parlano Ormai è diventata una prassi comune quella di gabbare il consumatore Con questa truffa di volturare contratti della luce, del gas e del telefono Senza dire niente all'ignaro consumatore E naturalmente quelli che non sono a conoscenza si vedono staccare la luce così d'amblè Esatto, nel nostro caso cosa succede? Un signor prestanome di cui qui abbiamo le generalità Però ovviamente non le diciamo in diretta Si è intestato tutta una serie di contratti Fra cui quelli del nostro condominio E ovviamente dietro penso un compenso economico Questo signore è un vecchietto di 80 anni di Ancona Ok? Bene, questo che ringrazio in diretta se ci vede Per questo servizio che ci ha reso Magari è anche ignaro di avercelo servito Questo signore si è visto recapitare le bollette Che dovevano arrivare a noi però al suo indirizzo E quindi il nostro amministratore non ha mai saputo che è stato fatto questo cambiamento di contratto E quindi dopo due o tre mesi che c'era stato questo distacco Perché ovviamente l'Enel non ci avvisa nemmeno che siamo stati distaccati Siamo noi che dobbiamo scoprire le nostre spese E l'abbiamo scoperto solo tre giorni fa Quando all'improvviso la corrente è andata via dalle scale Bene, insomma questo che metta sul chi va là un po' tutti quanti C'è una metodica ben precisa per attuare questa truffa Noi approfondiremo questo aspetto Ce ne occuperemo ancora Vi faremo capire come avviene in maniera precisa questa truffa Di modo che possiate anche voi stare sul chi va là su questa cosa Perché ci sono anche delle contromisure poi da adottare Da mettere in campo per prevenirle Bene, nelle prime ore del mattino di oggi È proseguita la pulizia dell'abbondante materiale legnoso Accumulatosi nell'area portuale di Pesaro Su segnalazione della Capitaneria di Porto Che nei giorni passati si era adoperata per segnalare A tutti gli operatori marittimi della pesca e del di Porto Il potenziale pericolo per tutti i naviganti A tal proposito pare in particolare che i due grossi tronchi Segnalati alla deriva della stessa Capitaneria Si siano ora trovati in riva immediatamente a sud del Porto Spiaggiati Bene, ed occupiamoci di un argomento che noi e voi Conoscete molto bene Le buche nelle strade Siamo andati a Monte Ciccardo Verrebbe da dire che tutto il mondo è paese Ed in effetti stamattina quando siamo arrivati a Monte Ciccardo Paesino di 500 anime Sopra Pesaro Poco distante da Sant'Angelo in Lizzola La strada tutta dissestata e sfaldata nell'asfalto Che si inerpica dalla chiusa di Ginestreto Tanto ci ricordava Quella che ogni tanto documentiamo Per le segnalazioni dei nostri amici fanesi A chiamarci questa volta il signor Bonazzioli Ora pensionato Ma una vita passata nel corpo dei vigili del fuoco Nato e cresciuto qui E caparbiamente è rimasto qui Tra il suo paesaggio Ma che non accetta una situazione che da tanto tempo va avanti Il dissesto e l'abbandono delle strade circostanti Strade che lui e i suoi concittadini percorrono ogni giorno Quando uno cammina nelle strade Sembra di camminare in un campo minato Fare la zincana Non so come chiamarlo Io devo guardare dove metto le ruote della macchina O della moto Con qualunque mezzo cammino Devo stare attento a cercare di schivare queste buche Vere e propri fossati Che c'è un pericolo veramente Un pericolo per la sicurezza La casa cantoniera Emblema e dimora di chi si prendeva cura Un tempo delle strade e dei fossi Il cantoniere appunto È una figura ormai rara o per lo più assente Come dimostrano le erbacce vittoriose sulla struttura Le strade sono abbandonate Cioè nessuno fa la manutenzione Nessuno fa niente I cantonieri non esistono più Le strade non c'è segnaletica Non c'è né segnaletica né orizzontale Né segnaletica che delimiti le carreggiate I paletti Quindi qui quando è buio Oppure quando c'è nebbia Non si vede niente Uno non sa dove andare Uno che viene da fuori Non sa dove andare Non ci sono indicazioni Che indicano dove andare Dove cosa fare Questo è un momento In cui il territorio è abbandonato Ma il crucio principale Non è tanto il decoro Quanto la sicurezza appunto Di chi usufruisce della strada Io quando cammino sulla strada Voglio che la strada sia sicura Dopo se le responsabilità sono le mie Me le assumo Quindi quando succede un incidente Le responsabilità vanno ripartite Quindi se uno qui cade Vai a chiedere poi Di chi sono le responsabilità Se io cado perché c'è una buca Perché magari c'è della ghiaia O del fango sulla strada A chi devo chiedere i danni? Per avere il danno Il distarcimento del danno Devo fare il ricorso Devo andare dall'avvocato Devo andare dal giudice Non so cosa devo fare È un calvario Quindi uno rinuncia È questo che dà fastidio Bene, apriamo una parentesi politica Il Movimento 5 Stelle di Fano Riprende i suoi incontri pubblici Per parlare dei temi Delle problematiche della città Purtroppo invece è quello che sta succedendo In effetti noi ci vediamo ormai da anni Tutti i lunedì in Vianolfi In riunioni aperte A cui possono partecipare I cittadini Però da un po' di tempo Abbiamo cominciato a girare per i quartieri Soprattutto per rendere più agevoli I cittadini che non possono raggiungerci in centro La partecipazione Quindi lunedì prossimo Lunedì 13 Ci incontreremo al Paso Al Bar Il Paso Di Sant'Orso Alle ore 21 E tratteremo diversi argomenti Importanti per la città La sicurezza La viabilità La scuola E naturalmente non potrà mancare la sanità A questo proposito Vorrei ricordare che la settimana scorsa Nello scorso weekend Sabato Abbiamo iniziato la raccolta firme Per la mozione popolare Solo in un weekend Abbiamo raccolto più o meno La metà delle firme sufficienti Per presentare l'atto in Consiglio Comunale Continueremo la raccolta sabato prossimo Di mattina Dalle 10.30 alle 12.30 Il pomeriggio di sabato e di domenica Dalle 17 alle 19 Questa è un'iniziativa trasversale A cui hanno aderito diversi movimenti politici Come appunto il Movimento 5 Stelle di Fano Possibile, Bene Comune e La Lega Naturalmente è un'iniziativa A cui potranno aderire Se lo volessero altre forze politiche E invitiamo chiaramente i cittadini A sottoscriverla Perché l'intento è quello Di portare in Consiglio Comunale Una mozione popolare Che chieda al Sindaco Seri Di sottoscrivere il patto di Piagge Che è un patto che sostiene La valorizzazione degli ospedali esistenti E la non chiusura di nessun tipo di presidio E domenica 12 marzo a Loreto Ci sarà la terza edizione Della festa delle proloco di tutte le marche La festa è un evento celebrativo Dichiara Renato Claudio Minardi Ma è anche un'occasione per stare insieme Consolidare il senso di appartenenza E soprattutto fare squadra In un momento difficile per la nostra regione Colpita dal sisma Abbiamo bisogno di rilanciare il turismo E credo che queste sinergie Tra soggetti che valorizzino il territorio E le sue eccellenze Sia una bella strategia Una bella scelta strategica A breve inoltre ci sarà Una discussione in aula Sulla proposta di legge Presentata dallo stesso Renato Claudio Minardi Sulle sagre di qualità E adesso Prima di chiudere il telegiornale Prego la regia di ridarmi Le immagini che provengono in diretta Dall'autostrada Dalla 14 Dal punto in cui è crollato il ponte Per una nota Un'ansa battuta pochi minuti fa Che proviene dall'ospedale di Torrette Dal primario del pronto soccorso Che appunto è emesso un bollettino medico Sulle condizioni dei tre operai romeni Feriti nel crollo del ponte Allo stato attuale Si legge nella nota Abbiamo ancora difficoltà E a definire la prognosi Ma dalle indagini espletate Non sono emerse lesioni Che pongano in pericolo La vita dei due operai Che aggiunge il primario Verranno trattenuti in osservazione Dalle 12 alle 24 ore Nell'unità di osservazione Del pronto soccorso Dell'ospedale appunto regionale di Torrette E con questa notizia confortante Chiudiamo il telegiornale Questa edizione Che naturalmente tornerà domani sera Puntualmente alle 20 e 30 Grazie per essere stati in nostra compagnia Buona serata a tutti voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.